Ma bella raga ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Allora come avete visto è uscito l'aggiornamento su Brawl Stars ieri Aggiornamento secondo me molto carino perchè è stato introdotto il nuovo brawler Mr.P Che ovviamente non lo troveremo mai mi sembra ovvio Hanno modificato qualcosa sotto il punto di vista grafico Hanno aggiunto la modalità dominio E poi c'è una cosa che diciamo mi ha lasciato un po' perpresso Perchè se vado nello shop ho queste 9 casse enorme gratuite Allora il problema qual è? Nel video che ho caricato ieri molti di voi mi hanno parlato di mega casse gratuite Mega casse io queste mega casse non ce le ho Quindi non ho capito se era una cosa che riguardava il cammino dei trofei Perchè io appunto è dalle 9500 coppe che non riscattavo nulla Avevo 3 mega casse quasi hanno fatto delle modifiche Adesso ne ho addirittura 5 Quindi non ho capito se hanno messo delle mega casse nuove qua Oppure altro Quindi spiegatemi voi nei commenti perchè sono un po' confuso Comunque nel video di oggi andremo ad aprire queste 9 casse enormi gratuite Che in realtà In realtà se andiamo a vedere qua la questione percentuali Abbiamo bene il 057 per i epici e il 026 per i mitici Ha una probabilità altissima Le casse sono tante Io ormai ci ho perso le speranze Però Però sono effettivamente 9 Quindi ho Miracolo divino Speriamo che vieni a me Comunque prima di andarla ad aprire Io direi che ci possiamo fare due parti tozze Nella nuova modalità dominio Ho fatto solo una partita Da quando è uscito l'aggiornamento E vabbè si più una in sopravvivenza Non dice il risultato Ma l'abbiamo vinta 32 a 0 Cioè Così Con i random 32 a 0 Va bene raga Interessante Molto interessante Ora probabilmente che farò il video Perderò 32 a 0 Ma Speriamo di sbagliarci E infatti L'abbiamo persa Il problema di questa modalità È che vabbè Un po' come tutte le 3v3 Ma forse questa qualcosa in più Che giocata con i random Raga È meglio evitare È meglio evitare Perché comunque Bisogna attaccare tutti assieme Bisogna avere un team Decente Almeno Per cui Però non so Questa qua è la terza partita Che ci faccio Ancora devo studiarmela bene È un dato di fatto Che giocare con i random È sempre meglio evitare Su questo direi che Non ci sono dubbi Ma ha preso Vaffan brutto Comunque siamo 1 a 1 Vediamo un po' Che accadrà Tanto io Provo ad avanzare Dai che si ammessi benino Bellissimo Ci muore rosa Ci muore rosa Ho detto Ci muore rosa Ho detto Eh grazie No Non ho fatto neanche il punto Fuck Quindi nulla Sicuramente giocata in gruppo È molto molto più interessante Quei random È troppo casuale Cioè alla fine Vai in mezzo Ti butti Muori Vai in mezzo Ti butti Muori Oppure fai le kill Se piglia bene Questi qua sono tutti one shot Mannaggia a loro Se ci morissero Bellissimo Dai Sono 6-1 Ma si può recuperare tranquillamente Adesso il centro Ce l'abbiamo noi Per cui tu ci muori Bellissimo Qua ti piazzo Ah Ti piazzo anche la torretta Bello raga Bello 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 Dai Ha pure la torretta Penny Quindi secondo me Ora dovremmo fare Robe incredibilissime Tra pochissimo Partiranno anche i doppi punti Sì sì ma dovremmo averla vinta No no Dovremmo averla vinta Si è messi Troppo bene Ah Ma ha distrutto No Ah Ma da Quali bombardino Da molta noia Ah Ma ha distrutto Ok E potrei Ritirare tutto In realtà No però In 14 secondi Considerando che c'è ancora Penny No è vinta Raga è vinta È vinta È vinta È vinta Sì È certo che è vinta Vavo Io raga Sapete che vi dico Vado a farmi la mia amata Sopravvivenza Però giocata in team Come detto Secondo me È molto divertente Con modalità Allora In sopravvivenza Abbiamo laghi acidi E vabbè Lasciamo Jesse Dai Ci facciamo l'ultima Con Jesse E poi Andiamo A trovare nulla Probabilmente Però comunque Sono nove casse Raga male che vada Anche trovare i potenziamenti Va bene Essendo che sono gratuite Nel senso Fai li butti Io non butto niente Quali on Se ci volesse Bello No bro Dai bro Sì 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 Muore No Muore 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 Bellissimo Va bene Quello stecca Forse forse Qualche bottarellina Gliela diamo Vieni qua bro Bellissimo Bellissimo Ok almeno abbiamo preso i power up Tanto meglio E poi qua in realtà Lui non mi sembra proprio messo benissimo Anche se Non riesce a scappare Scherzavo Oddio Sto leone No no Ecco Questo è un bel problema Vai da Ems Leon Vai da Ems Non venire da me Non fare il kagaga per favore Non fare il kagaga per favore Ecco Mi sa che saremo i pro Ecco Sì 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 Beh sì 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 Cioè Che potevo fare Che potevo fare Niente Comunque il nostro più due Almeno quello Eh grazie mille Vabbè facciamoci proprio l'ultimissima Giusto per essere sicuri di arrivare a 10 minuti Che comunque non si sa mai raga Non si sa mai No comunque a parte gli scherzi Dai facciamoci una vittorina Cheat 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 Allora il primo Tu puoi anche prenderla alla cassa A me basta giusto tirarti qualche bella bottazza per la special E va bene Cioè non è che Sì Speravo di dare qualche hit in più magari ma Nella vita bisogna sapersi accontentare Nella vita sì Bisogna assolutamente sapersi accontentare Anche se Magari una cassettina Non sarebbe male Tipo questa Ok almeno una c'è No occhio Barry Ah no 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 Ehi ehi No 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 Non hai capito nulla Non hai capito nulla Non hai capito proprio nulla Aiuto 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 Ok Siamo nuovamente quinti Vabbè Cioè non va bene perché non la vinceremo mai nella vita Però Almeno il più 2 c'è Madonna raga se la vedo male Allora vedo un po' di movimento lì a destra Forse riusciamo A fare qualcosa No no in realtà riusciamo a morire Ecco bellissima situazione E provo a fare così Non posso fare altro Ok in qualche modo però siamo riusciti a sfuggire Sono tutti là sotto loro Quindi Eh ma buona fortuna Cioè è impossibile vincerla Direi che su questo siamo tutti d'accordo Però 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 almeno secondi dai Secondo me si può fa Nita per favore uccidiamo il primo No ma sei uno stro Ma nita maledetta Con quella skin nuova Ma ragazzi siete degli stro Ma siete degli stro pazzeschi Ma fai datemi da voi Ma che volete da me Ma Non ho capito Però vi si stanno fai dando tra loro Bellissimo Oh bene Vabbè Va bene va bene raga Almeno siamo secondi I primi appunto Ma guarda se vuoi prendere delle hit Dalla torretta No va preso Vaffan brutto Va bene va bene va bene va bene Un bel piotto Inferno Butti Portacci Io non butto niente Non butto più due Figura di più otto Ok direi che è arrivata l'ora Quindi i brawler che ci mancano Ovviamente sono Vabbè Mr. P Quello nuovo Bea Mortis Maxine Ma sapete che secondo me Bea Essendo epica Avendo lo 0,50 E qualcosa Di probabilità Forse forse potrebbe essere La volta buona Io ci spero Raga Io ci spero Comunque a parte i nuovi brawler Abbiamo svariati i brawler Che sono già abbastanza alti Per arrivare al 9 Quindi tipo un colte Un poccio Maxato In 9 casse enormi Secondo me Ci potrebbe anche stare Quindi raga Negozietto Vai Allora Comunque qua è tanto 4 skip Non li possiamo trovare Perciò Vai Allora 103 di oro È troppo Quindi non mi darà Brawler Possiamo potenziare Rams Molto molto bene 12 di 8 bit Che brutta cassa Non schifo questa Prossima cassettina 99 di oro 9 di ogenio Raga ma Ma cosa Ma pochissima roba Ma che è Meno oro E oh ecco Qua dovrebbe già darmi più power up 16 di hands E 20 penne Vabbò Secondo me Non riusciamo a maxarci nessuno Raga Vi dico la verità 14 di rosa 20 leon E 30 sendy Che finalmente Possiamo portare al 2 Andiamo avanti Questa dovrebbe essere la quarta 65 di oro 9 di beryl 16 sendy E 30 pocho Buono buono 30 di pocho Anche se avrei sperato 30 di carla Cioè di colt Orettino 9 di dynamike 12 pocho E 16 gessi Ragazzi Sto nuovo brawler Mi sa che ne mancano 2 o 3 Vabbè qua con tutto Quest'oro Non ci darà nulla Rosa 12 Oddio Uccidio 50 Tanta roba Ottimo Prossima cassettina 59 di oro 10 beryl 20 frank 30 gessi 10 20 30 Bellissimo Mi sa che la prossima è l'ultima Miracolo divino Miracolo divino E Miracolo divino E di miracolo divino Vabbò Minora doppio gettoni Vabbè niente Abbiamo orendola L'amica cassa Con 60 gemme Ma non Non mi interessa E di skin Sì ci ne sarebbe Di roba interessante Ma per ora Le gemme me le tengo Per dire a doppio gettoni Dato che qua Dobbiamo arrivare a 1000 box Comunque raga Per questo video Dove ovviamente Non abbiamo trovato nulla Direi che possa essere tutto Spero che vi sia piaciuto Se così fosse Vi raccomando un bel like Iscrizione con campanellina Noi come sempre Ci becchiamo alla prossima Con un nuovo video Bella raga Alla prossima